La città di Brescia torna ad essere protagonista di Honda in the City, l'appuntamento offerto da Honda Italia, che permette a tutti gli appassionati delle due ruote di poter provare su strada e gratuitamente le belle di casa nipponica. Come sempre i motociclisti della zona e delle città vicine si sono allegramente presentati al villaggio di Honda Italia per testare gli scooter e le moto di recente uscita, più ovviamente quei modelli che da anni cavalcano con successo strade e circuiti. Lo staff di Honda ha organizzato anche per questo appuntamento un percorso da vivere in sella, che ha pagato lo sguardo e le aspettative dei motociclisti. La bella giornata di sole poi ha contribuito a creare quell'atmosfera di serenità e amicizia tipica dei motoraduni. Honda in the City ha dimostrato anche per la stagione 2012 che questo progetto itinerante nelle città italiane è un'opportunità molto gradita a chi ama moto e cilindri. Casco alla mano e patente idonea sono l'unica cosa che vi viene richiesta. Non perdete quindi la prossima tappa del tour che potete scoprire tramite il sito di Honda Italia. Rest of the life 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 Grazie a tutti.